La facciamo vedere per bene questa maglia? Come si apre in curva, in maratona, in curva in curva, in curva, in curva, in curva, in curva, insomma, una sciarpata così, come si dice in gergo, no? Non sarebbe male. Chi l'ha fatta questa, diciamolo, chi l'ha fatta questa, chi l'ha realizzata e chi l'ha? La sciarpa l'ha fatta Maurizio Cattelan all'interno di questo progetto che si chiama Museum League e che coinvolge tutti i più grandi musei del mondo. Diciamolo qualcuno, la Tate. Dal MoMA, la Tate, al Guggenheim, in Italia, al Maxi di Roma, il Mambo non poteva mancare. Quindi Bologna è in Champions League, diciamo così? Bologna è in Champions League e noi vogliamo giocarci le nostre carte e vogliamo avere un ruolo da protagonisti. Quindi diciamo, Mambo è già in Champions League, quello che vorremmo è l'auspicio mettere assieme Mambo con i colori del Bologna e che Bologna nel giro di poco tempo possa anche esso essere in Champions League. Se queste sciarpe comparissero al Dallara, forse se ne è un passo in più, anche per di stimolo, anche per la squadra magari. Noi pensiamo di sì, assolutamente. Da domenica a due le portiamo contro la viola, anche se le viola sono fratelli. Cugini, da rosso e blu nasce il viola, ma il sciarpa che si potrà comprare. La sciarpa si potrà comprare e di questo ringraziamo la partnership con Bologna Welcome in Piazza Maggiore, negli spazi di Bologna Welcome e ovviamente al Mambo del nostro bookshop. Quando poi si potrà comprare anche allo stadio sarà veramente l'opera d'arte. E lì assolutamente chiederemo subito. Grazie.